Quando l'ira del Padre mio, come leggete nei testi sacri, testi sacri che costituiscono il nucleo stesso della fede, quando l'ira del Padre mio si abbatté sull'umanità perversa, Noè, che era giusto e timorato di Dio, costruirà. Riflettete bene sui testi della scrittura, vi daranno luce per i tempi che vivono. Mangiavano, bevevano, si rodevano la vita. Noè, invece, costruiva l'aria.